All'indomani della riunione avvenuta nella sede della regione Abruzzo a Roma e dopo anni di battaglie portate avanti per scongiurare un impatto derivante dal raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara nel territorio di San Buceto, il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che per protesta in passato si era persino incatenato vicino a un passaggio a livello, parla con soddisfazione di una prima concreta apertura di RFI verso la modifica del progetto e di un possibile interramento. Progetto che tagliava in due il paese, mentre dopo l'incontro di ieri c'è stata un'apertura abbastanza importante, un'apertura notevole su come valutare il centro di San Giovanni Teatino San Buceto, cioè quello di interrare un tratto abbastanza sostanzioso per salvaguardare il centro cittadino. Per il resto rimane invariato il tutto, il progetto va avanti, ormai sappiamo che questa nuova tratta si farà, nel 2024 e senza altre ore inizieranno, c'è stata questa apertura importante sia sull'interramento delle zone centrali sia sullo spostamento e la delocalizzazione della stazione ferroviaria. Stazione ferroviaria che ad oggi progettualmente è posizionato di fronte all'ingresso dell'aeroporto militare, posto veramente inutilizzabile come servizio sia per Pescari che per San Giovanni Teatino. Invece noi abbiamo chiesto ripetutamente, anche questa volta, abbiamo fatto notare l'importanza di portare più avanti questa stazione, c'è nei prestiti delle ICO, quindi avvicinarsi più al paese per fare in modo che possa essere veramente un servizio utile per le città e per l'aeroporto stesso. Il costo è sempre stato detto da RFI che non ha importanza, loro stanno facendo questo investimento dove veramente non andranno a guardare al milione, due o tre o dieci di euro in più o in meno. Per loro interessa l'opera come interessa anche a noi e che venga fatto in modo non distruttivo ma costruttivo. Ci sarà un ulteriore confronto con RFI e Regione? Sì, allora tra dieci giorni circa ci sarà un nuovo tavolo dove si tornerà a discutere di quando ieri abbiamo parlato, si porterà in visione un progetto più approfondito e poi come già ho annunciato ai cittadini sarà mia primura, anzi mio piacere, come giusto che sia, dovere, mettiamoci tutto quello che vogliamo come importanza della parola per informare i cittadini come ho sempre fatto, ci saranno informati passo per passo su quello che è oggi e quello che può essere domani perché è giusto che i cittadini sappiano quello che si sta facendo e come potrà essere il nostro futuro.